Simona Ventura e la proposta di Giovanni Terzi, reazione di Bettarini. L'emozione vissuta da Simona Ventura nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le stelle è stata unica. Il concorrente e suo compagno Giovanni Terzi le ha chiesto in diretta di diventare ufficialmente sua moglie. Ha fatto la proposta davanti al pubblico e ai genitori di Simona. Cosa ha risposto lei? Sì, naturalmente, con la voce rotta dalla commozione. È stato un momento televisivo molto emozionante e dolcissimo. Ha scatenato tante reazioni e commenti. Immancabile la reazione di Stefano Bettarini, ex marito dell'Aventura, padre dei suoi figli Giacomo e Niccolò. Dopo essersi esibita con Samuel Perona, Simona Ventura ha raggiunto il centro del palco a Ballando con le stelle. Qui si è unita anche ai genitori, Anna e Rino, ed è stata raggiunta da Giovanni Terzi. Il giornalista ha ammesso di essersi trovato benissimo con tutti loro. Ha approfittato per dire a Simona che gli ha cambiato la vita. Giovanni parlava con la voce rotta dall'emozione. Davanti a tutti, in diretta TV, ha fatto la proposta. Le ha chiesto, il 6 luglio vuoi diventare mia moglie. Simona Ventura ha detto subito si scoppiando in lacrime, sotto gli occhi commossi di Millie Carlucci. Millie, felice per quella notizia, si è congratulata con la coppia. Mariotto si è proposto come testimone di nozze. Il 6 luglio 2024, la nota conduttrice Simona Ventura si sposerà per la seconda volta. Il primo matrimonio con il calciatore Stefano Bettarini risale al 1998. Dal difensore di Fiorentina, Bologna e Sampdoria ha avuto due figli, Niccolò, nato nel 1998, e Giacomo, nel 2000. Nel 2004, si sono separati, il divorzio è arrivato nel 2008. In seguito, Simona ha conosciuto Gerò Carraro, imprenditore e figliastro di Mara Venier. La loro relazione è durata otto anni, dal 2010 al 2018. Nel 2019, ha iniziato una storia con il noto giornalista e scrittore Giovanni Terzi. Stefano Bettarini ha commentato la proposta di matrimonio di Terzi sui social. Tra le tante reazioni alla proposta di matrimonio di Giovanni Terzi, non poteva mancare il commento di Stefano Bettarini. È arrivato puntuale con una storia su Instagram. Ha pubblicato una foto della TV sintonizzata su Ballando con le stelle con tanto di didascalia, W l'amore. Bettarini e Ventura, dopo il divorzio, hanno mantenuto un ottimo rapporto anche per l'amore che li lega ai loro figli. Lui, attualmente, è fidanzato con la 29enne Nicoletta Larini. Che ne pensate della proposta di Terzi e della reazione di Bettarini? A voi i commenti! Grazie!